voglio stamattina direttamente a strisciare le notizie a giurisciare guarda quanto è bello scerni al locale viva guarda e poi anche pure a mano di Filippo e qua quando la prima posta c'è posto per te e ce ne hai rivoluto guarda che me fanno pace Peppe guarda riprendi voglio spettacolo del mare astici tutti vivi 19 e 99 gran servo sempre tutti vivi guarda che spettacolo voglio il mare il mare blu guarda 19 e 99 stamattina super offerte granchi porra 6 e 99 tutti vivi cicale vive sempre di mare guarda le cicale astici blu sono veloci 25 euro a kg 25 euro a kg astici blu sempre tutte vivi Peppe riprendi guarda che spettacolo andiamoci a fare una panoramma guarda qua Peppe ricciole locale guarda che spettacolo super show stamattina voglio aspettare ma tutti quanti rimuovano il mare blu sempre Peppe partiamo sempre con le stelline 1 e 99 rubite sempre le 99 vannoci vannoci lì sto dietro ci apro dietro vannoci a spiccola vannoci a pesci spada torna a pagare rubine rossa e poi facciamoci a saponare vedi vannoci a pescatrice 3 euro qui ho un tornetto in euro ha avuto la camberetta aiuto aspettando va tutti quanti un bacio forte la roba di nuovo fatti che la panorammi che figlia dava non mi prende parla c'è risposta vannoci aspettando vai 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 vannoci 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 vannoci